Una modesta recinzione che segnalava il pericolo è soltanto una truppa impegnata in un videoclip a soccorrere le vittime, padre, madre e figlio di 11 anni, una famiglia residente a Meolo, nel Veneto, in vacanza a Napoli, morti a causa delle salazioni di anidride carbonica dopo essere caduti in un'area interdetta all'interno della solfatara, il vulcano dei Campi Flegrei. Da una prima ricostruzione dei vigili del fuoco sul limite della recinzione che interdice l'accesso all'area della cosiddetta fangaia, il ragazzino di 11 anni sarebbe scivolato per pochi metri e i genitori si sarebbero lanciati per afferrarlo cadendo a loro volta. Il figlio di 7 anni che non si è mosso dal punto dove si trovava si è salvato. Una volta caduti i genitori e il figlio potrebbero essere stati uccisi dalle salazioni, ma solo l'autopsia potrà confermare questa ipotesi. L'area della solfatara è gestita da privati che hanno scelto di non commentare l'accaduto né di esprimersi in merito alle misure di sicurezza che caratterizzano il complesso della solfatara. Ci si chiede se possa abbassare una recinzione così modesta a fermare un bambino e come sia possibile che in un sito a rischio non ci sia un protocollo di sicurezza, un sistema di allarme e la sorveglianza nel percorso. Il vulcanologo Giuseppe Mastro Lorenzo ha definito la solfatale un'area da allerta gialla che crea un altissimo rischio vulcanico da tenere costantemente sotto controllo. Qualsiasi cosa si faccia in quest'area, qualsiasi sollecitazione può causare disastri, quindi bisogna stare molto attenti. Oltre che i rischi naturali ci sono anche i rischi che possono essere indotti.